Arriva a raccogliere il pallone Mario Rui dentro! Insigne! Insigne! È in vantaggio al Napoli dopo 6 minuti Lorenzo Insigne fa Napoli 1 Roma 0 È in vantaggio la squadra di Sarri che allunga virtualmente in classifica con il gol di Lorenzo Insigne su assist di Mario Rui Rivediamo l'azione Insigne! Prova a passare su De Rossi che lo blocca! Arriva Zielinski! Fa proseguire l'azione Mario Rui all'indietro! Insigne con deviazione! Ed è il gol dell'1 a 0! Era partita bene la Roma qua un po' sfortunata! La deviazione sembra essere di Fazio oppure di Manolas in scivolata!